In Italia cresce la povertà energetica, ovvero l'impossibilità ad accedere per motivi di reddito a servizi come riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e gas per cucinare. Secondo gli ultimi dati resi disponibili da Enea, fra il 2016 e il 2018 il fenomeno ha colpito circa 40.000 famiglie in più, con un incremento dello 0,1% l'anno, che in valori assoluti equivale all'8,8% a livello nazionale. L'identikit della povertà energetica, secondo l'Indice del Piano Nazionale Energia e Clima, evidenzia che a essere colpite sono soprattutto le regioni del sud, le famiglie con oltre 5 componenti, quelle dove il capofamiglia ha meno di 35 anni e quelle guidate da donne ultra cinquantenni. A novembre 2020, quasi un terzo delle imprese considerava a rischio la propria sopravvivenza. Oltre il 60% prevedeva ricavi in diminuzione e solo 1 su 5 riteneva di non aver subito conseguenze dalla crisi Covid-19. È quanto emerge dal rapporto Istat sulla competitività dei settori produttivi. Nonostante uno scenario in miglioramento, le prospettive di ripresa per il 2021 sono giudicate limitate. Meno di una impresa su 5 prevede una normale prosecuzione dell'attività nella prima metà dell'anno. La crisi ha colpito soprattutto le aziende piccole e piccolissime e si è manifestata prevalentemente con un crollo della domanda interna e della liquidità. A febbraio 2021, il tasso di disoccupazione dell'area dell'euro era dell'8,3%, stabile rispetto al mese precedente e in aumento dal 7,3% del febbraio 2020, lo rileva l'Eurostat. Stabile su base mensile è anche il tasso di disoccupazione dell'UE, al 7,5% nel febbraio 2021. Il dato è però in aumento dal 6,5% a febbraio 2020. Nell'anno segnato dall'emergenza Covid-19 sono quasi 2 milioni i disoccupati in più nell'Unione Europea, di cui un milione e mezzo nell'area euro. Per il 2020 la Tari, la tassa sulla spazzatura richiesta dai comuni, è rimasta invariata ed in qualche caso addirittura i comuni stanno pensando di aumentarla. Questo perché da parte loro c'è una certa discrezionalità nel richiederlo. Ma ricordiamo che molte aziende sono state chiuse nel 2020 per un lungo periodo, quindi non hanno prodotto spazzatura. Come al solito le istituzioni hanno un braccio lungo, quello con il quale chiedono, ed un braccio corto che è quello con il quale danno.